bene vediamo adesso come rappresentare la copertura del nostro edificio ricordo che il nostro edificio è composto da sei case a schiera che hanno tutte la stessa la stessa configurazione tranne piccoli particolari e che noi adesso stiamo disegnando un blocco un modulo diciamo così completo in modo da poterlo poi successivamente duplicare cinque volte in modo da ottenere l'intero edificio allora la copertura è una copertura fatta a due falde che partiranno da una linea di gronda che è dalla parte del portico e dalla parte del giardino e una linea di colmo che starà esattamente al centro e quindi saranno fondamentalmente due falde allora si procede in questo modo si va nel piano primo e nel piano primo si utilizza lo strumento falda lo strumento falda è questo qui è questo pulsante e permette di realizzare le falde in vari modi cioè la falda piano singola che è quella che utilizzeremo noi e anche la falda con il metodo di geometria multipiano che significa fondamentalmente fare un tetto a padiglione allora noi useremo la falda multi la falda la falda singola nelle impostazioni dovremo fare attenzione a questi parametri allora sceglieremo un materiale standard la copertura e la struttura semplice diciamo così scegliamo il generico strutturale che è il materiale che abbiamo usato un po per tutto l'edificio in modo da avere più facile l'intersezione il bordo scegliamo il bordo obliquo la pendenza del tetto che può essere espressa in gradi o in percentuale noi la mettiamo in percentuale 30 per cento l'altezza d'imposta sarà l'altezza all'interno dell'edificio l'altezza minima all'interno dell'edificio che è 240 dopodiché possiamo anche decidere di sovrascrivere la superficie con una copertura che ne so di tipo copertura tegola spagnola va bene in questo modo a questo punto siamo pronti per poter iniziare a rappresentare la nostra la nostra falda allora la prima cosa che ci viene chiesto occhio a quello che viene indicato sotto è di scegliere la linea di riferimento riferimento sarà il punto dove ci sarà l'imposta del tetto cioè dove c'è il 240 quindi questa parte di attacco interna all'edificio la successiva operazione è quella di scegliere da che parte rispetto a questa linea la falda salirà ovviamente all'interno dopodiché noi possiamo disegnare la falda quindi in questo caso clicchiamo un primo punto e un secondo punto lo clicchiamo diciamo così in un punto qualsiasi se andiamo nel 3d avremo rappresentato soltanto una piccola parte della falda adesso faremo la stessa operazione dall'altro lato e poi troveremo un modo per farla intersegare in modo automatico la facciamo la stessa cosa dall'altro lato e scegliamo il punto la linea di riferimento il verso di salita scegliamo un punto e disegniamo una parte della nostra falda adesso andiamo in 3d e siamo in questa situazione ora come possiamo fare per diciamo così fare intersegare correttamente le due falde selezioniamo la prima falda tenendo premuto il tasto command oppure il tasto control con windows andiamo a selezionare il bordo della falda a cui questa dovrà arrivare quindi automaticamente questa falda viene allungata per una corretta intersezione facciamo la stessa operazione all'altra parte selezioniamo questa falda selezioniamo il bordo dell'altra e vedete la il nostro tetto viene intersegato in modo corretto ecco in questo modo non abbiamo bisogno andare a cercare con esattezza il punto medio perché diciamo il software lo fa automaticamente adesso però ci troviamo di fronte a un'altra problematica che è quella di dell'intersezione con le murature perché noi avevamo impostato un'altezza diciamo così anche provvisoria che come ben vedete per i muri laterali è diciamo troppo cioè i muri laterali sono troppo alti ma tutti gli altri muri sono troppo bassi allora che cosa conviene fare in questo caso conviene diciamo così alzare tutte le murature del piano lasceremo da parte le due murature della facciata per la particolare configurazione del nostro tetto che queste murature dovranno un pochino coprire il tetto come nel progetto tutte le altre murature le alzeremo per un'altezza diciamo così esagerata ne so sei metri dopodiché con un comando faremo un'intersezione tra il tetto e le murature in modo che queste possano essere tagliate in modo esatto allora la prima cosa che dobbiamo fare è quella di alzare tutti quanti i tetti del piano primo allora anche qui c'è un modo abbastanza semplice per poterlo fare nel senso che noi ci posizioniamo nel piano primo e andiamo sul design sullo strumento muro e dal menu edita possiamo dire di selezionare tutti i muri ci vengono selezionati di tutti con il tasto shift diciamo così premuto possiamo togliere dalla selezione quelli che non ci interessano e sono sicuramente tutti i muri delle terrazze che sono dei muretti ma toglieremo anche il muro avanti e il muro dietro ok e perché questi per adesso li lasciamo a questa altezza scegliamo una nuova altezza e mettiamo che ne so sei metri ok a questo punto se andiamo sul 3d ci troveremo in questa situazione adesso che cosa facciamo per poter tagliare bene le murature dobbiamo praticamente selezionarle tutte allora come selezionare le murature e il tetto quindi selezioniamo questa muratura con il tasto shift premuto l'altra muratura tutti i muri interni e anche le due falde una e due a questo punto con il tasto destro del mouse abbiamo l'opzione taglia alla falda a piano singolo cliccando in questo modo dicendo che ci deve tagliare la sommità dell'elemento quindi la parte sopra e non la parte sotto andando di taglia vedete automaticamente il nostro software il nostro programma ha tagliato tutto e vediamo un attimo bene in 3d ok vedete abbiamo pure le murature queste murature che sono diciamo così un pochino più alte possiamo anche regolare questa muratura adesso attualmente è impostata a 3 metri e diciamo che per noi va bene così e le lasciamo a 3 metri ora avremo in realtà praticamente finito l'unico problema che rimane è che se ci fate caso da questa parte abbiamo una precedenza per i muri laterali per cui il muro viene interrotto in questo modo e invece dalla parte posteriore diciamo che questo è fatto e disegnato in modo corretto allora come possiamo fare per risolvere questo problema è un problema diciamo così di priorità dei muri allora andiamo al piano primo e se noi andiamo a selezionare questo muro vedete dalla parte colorata si capisce che praticamente il muro laterale ha una precedenza rispetto a questo ma come facciamo a dare una precedenza differente la se noi selezioniamo il muro e andiamo sulle impostazioni vediamo che l'ordine di giunzione è pari a 8 se andiamo su quest'altro muro l'ordine di giunzione è pari a 8 pure lui ma che cosa dobbiamo fare a questo muri dobbiamo dare un ordine di giunzione maggiore ecco qua vedete la parte colorata è diciamo così è predominante rispetto all'altra facciamo la stessa cosa all'altra parte non c'è bisogno perché chiaramente il muro è unico adesso se andiamo in 3d vedremo che eccolo qua già si è aggiornato la nostra muratura è rappresentata in modo corretto da tutte e due le parti quindi in questo modo siamo riusciti diciamo così a completare il nostro edificio una prima parte il nostro edificio in realtà qui mancherebbero alcuni degli elementi di rifinitura perché anche qui sopra bisognerebbe disegnare una scossa lina però diciamo che la struttura principale del nostro edificio è pronta per essere così duplicata per costruire l'intero edificio composto da sei case a schiena